Grande commozione nel mondo dello spettacolo e della cinema per la morte di Omero Antonutti, attore, doppiatore indimenticabile, interprete di tante pellicole, a cominciare da padre padrone dei fratelli Taviani. Nato a Basiliano nel 1935, si è spento stamattina in ospedale a Udine, dove era ricoverato per le complicanze di un tumore che lo aveva colpito da tempo, al suo fianco la moglie. Noto al grande pubblico, soprattutto per la sua attività di doppiatore, negli anni ha prestato la sua voce a importanti interpreti internazionali, tra i quali Christopher Lee, Hart, Omar Sharif. Voce narrante in film come La vita è bella e Il mestiere delle armi, tra le sue interpretazioni appunto padre padrone, La notte di San Lorenzo, Chaos, tutti dei fratelli Taviani. L'attività di Antonutti fino agli anni 70 proseguì alternando cinema e teatro con continuità. Tra i film più intensi interpretati nel cinema si ricordano Farinelli, voce regina di Gérard Corbieux, Un eroe borghese di Michele Placido, I banchieri di Dio, Il caso Calvi di Giuseppe Ferrara e Turidi ancora dei fratelli Taviani. Tra le produzioni più recenti, la serie televisiva Sacco e Vanzetti, N, Io e Napoleone, La ragazza del lago e nel 2008 Miracolo a Sant'Anna. Antonutti è stata una delle figure più eclettiche del panorama artistico italiano. Esordì al cinema nel 1966 con una piccola parte in Le piacevoli notti con Vittorio Gasman, Gina Lollobrigida e Ugo Tognazzi. Nel 74 fece parte del cast di processo per direttissima e fatevi vivi, la polizia non interverrà, ma il suo primo ruolo di spessore del 1977 quando venne scritturato per il ruolo di padre di Gavino Ledda, in padre padrone appunto dei fratelli Taviani. Oggi è toccato a Gavino, domani toccherà a voi.